Buongiorno, 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 è arrivato, torni a casa, torni a casa, anche perciò una bella foto, buongiorno, buongiorno, sono contento veramente, dopo qualche mese, fatta, ci siamo, bene, io sto aspettando, quando vuoi tu andiamo, fai tu strada, sì, ovviamente, prego, prego, buongiorno, Presidente, lo hai modificato, se no, lo avevo modificato a Schultz, la mia elezione è stata